Ad una giornata molto intensa, molto interessante di lavori, ad una mattinata altrettanto interessante ed intensa e anche al venerdì, visto la collocazione di questo giorno nella nostra settimana. Iniziamo la prima sessione di questo pomeriggio, che sono molto felice di moderare, anche se sono una moderatrice che sostituisce la professoressa Spina, che è dovuta partire con un po' di anticipo. Felice perché in questa sessione ci sono delle persone che conosco, delle persone che hanno studiato con me e anche delle persone che affrontano il tema dello sport da una prospettiva, devo dire, nuova e che credo possa risultare per tutti molto interessante, anche per gli sviluppi che questa prospettiva può dare agli studi sociolinguistici, linguistici tradizionali. Quindi apro con Francesca Gallina, che mi ha detto di essere presentata innanzitutto come una studentessa, ex studentessa dell'Università Prestanieri di Siena, che sono molto, molto particolarmente felice di introdurre perché è innanzitutto una carissima amica e collega e attualmente, ahimè, si trova a lavorare per un'altra importante università italiana, l'Università degli Studi di Pisa, dove presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. È una collega con cui abbiamo condiviso tante ricerche su varie questioni che riguardano il contatto linguistico, la sociolinguistica in contesto migratorio e che oggi darà un contributo molto importante anche legato alla sua esperienza personale, questo pochi lo sanno, di regbista della Benetton Treviso, ex regbista. Grazie Francesca. Grazie a te, anche se regbisti lo si rimane sempre, anche quando si smette. Grazie. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Il mio intervento ha a che fare con uno sport che finora, insomma, non è stato molto citato, ovvero il rugby. Devo innanzitutto ringraziare la Federazione Italiana, la persona di Maria Cristina Ton, responsabile del femminile e la società Benetton Rugby per avermi accolta, avermi permesso di fare questo lavoro, che aveva come obiettivo quello di tracciare un quadro del plurilinguismo del rugby italiano, basandosi su dati a livello nazionale e focalizzandosi poi su un caso di studio particolare, di cui ho preso in esame il repertorio sociolinguistico, gli usi linguistici in campo e fuori e le politiche linguistico-educative. L'ipotesi da cui sono partita è che, nonostante l'ampiezza dei repertori sociolinguistici dei giocatori e dello staff, un po' in virtù delle loro biografie linguistiche, ovvero dei loro paesi provenienza, ma anche delle esperienze come atleti e come allenatori in altri paesi che non fossero appunto l'Italia e nonostante che lo spazio linguistico in cui si trovano attualmente a vivere, che è la città di Treviso, di fatto sia molto più ampio di quanto uno possa immaginare, di fatto l'inglese assume una posizione dominante nella comunicazione dentro e fuori il campo. L'ipotesi nasce anche da alcune considerazioni che riguardano le origini del rugby, che nella sua forma moderna, come si sa, è nato in Inghilterra, il lessico tecnico che è farcito, riccamente farcito di termini inglesi, nonché la presenza negli ultimi anni di giocatori e tecnici del mondo anglofono. C'è stata l'epoca dei francesi, successivamente quella degli argentini, ora siamo all'epoca di neozelandesi, australiani e quant'altro. Lo stesso regolamento della federazione italiana rugby, il regolamento di gioco, come vedete, presenta numerose parole inglesi che non vengono mai tradotte e molte sono le parole straniere che non sono parte del regolamento ufficiale, ma che vengono utilizzate comunemente da giocatori e giocatrici, nonché all'interno delle cronache sportive delle partite della nazionale di rugby, che hanno davvero un notevole successo a livello televisivo. La stessa nazionale italiana presenta un alto numero di giocatori di origine straniera, l'allenatore irlandese e sui 37 convocati per i test match che si stanno svolgendo proprio in queste settimane, 14 sono di origine straniera. Nel rugby dopo tre anni di gioco in Italia si è elegibili per la nazionale italiana. Per quanto riguarda il lavoro di ricerca che ho fatto, sostanzialmente ho lavorato con due approcci. Da un lato ho raccolto dei dati sui giocatori stranieri presenti nei campionati italiani e ho proiettato i dati relativi alle loro nazionalità in chiave demolinguistica. Successivamente mi sono occupata di un caso di studio, svolgendo delle interviste semistrutturate ai giocatori, ai tecnici e alla dirigenza, ho somministrato un questionario sociolinguistico solo ai giocatori, ho fatto una fase di osservazione sul campo degli usi linguistici e infine ho raccolto anche dei dati quantitativi sulla presenza di tesserati di origine straniera nel settore giovanile e nel settore femminile. Per quanto riguarda l'intervista al questionario per i giocatori ma anche poi per il tecnico, si basava in quattro sezioni focalizzate sulla biografia, quindi il tempo di permanenza in Italia, questioni familiari eccetera. Una sezione sulle competenze linguistiche, ovvero sul loro repertorio linguistico, sull'ampiezza di questo repertorio, nonché un'autovalutazione delle competenze, una sezione invece relativa agli usi linguistici in campo, fuori dal campo e nella vita esterna al rugby, nel dominio pubblico e infine una sezione relativa ai loro processi, percorsi educativi e formativi. L'intervista per i tecnici aveva la stessa struttura con in più alcune domande su come avevano scelto quali lingue utilizzare con i giocatori. L'intervista al dirigente era più centrata invece sulle politiche linguistico-educative della società, quindi su quali lingue venissero utilizzate con i giocatori e con i tecnici stranieri, chi prendeva decisioni su questo tema, se venissero offerti dei corsi di italiano o di inglese per giocatori e tecnici e se venivano anche offerte delle misure di sostegno per l'inserimento scolastico dei figli dei giocatori e dei tecnici. E infine se c'erano anche delle politiche in merito all'accoglienza di giocatori minorenni, giovanili di origine straniera. Alcuni dati quantitativi molto brevemente sui tesserati stranieri della FIR. Diciamo che dal campionato di eccellenza che è il massimo campionato all'Under 14 ho potuto vedere come ci siano circa 80 nazionalità presenti tra i giocatori, naturalmente con numeri molto diversi, i gruppi più consistenti sono quelli di Romania, Albania, Moldavia e Ucraina, un gruppo molto consistente anche di ragazzi nelle giovanili nati in Italia. Se dovessimo proiettare questi dati su un piano linguistico, come vedete la lista, che non è completa naturalmente, mette in luce un forte grado di plurilinguismo potenziale all'interno della federazione. Ma veniamo al caso di studio su cui mi sono concentrata. La Benetton Rebbe è sicuramente una delle squadre di eccellenza con una storia molto ricca, fatta di moltissimi scudetti sia maschile che femminile, che oggigiorno per la prima squadra ha una peculiarità, perché non gioca un campionato italiano, ma un campionato internazionale, costituito da squadre irlandesi, scozzesi e gallesi, più due squadre italiane e più due squadre sudafricane da due anni a questa parte. Quindi gran parte della comunicazione si svolge in inglese appunto con la Magnus Celtic League. Alcuni dati sulla Benetton Rebbe, non so qui, casomai se c'è tempo, ci torneremo dopo. Comunque sono circa 350 i giocatori tesserati tra maschile e femminile, seniors e juniors. Alcuni dati invece un pochino più interessanti, almeno dal nostro punto di vista, sulle nazionalità rappresentate nelle giovanili. Come vedete abbiamo Moldavia, Argentina, Nigeria, Messico, Kosovo, Albania, Kosovo, quindi tutti appartenenti a comunità immigrate ben radicate sul territorio trebigiano. Per quanto riguarda invece la nazionalità dei giocatori della prima squadra, che è il vero fulcro del nostro lavoro, su 45 giocatori abbiamo 33 giocatori di nazionalità italiana e 12 giocatori di altra nazionalità. In realtà questo dato è un po' falsato, perché? Perché molti giocatori sono nati all'estero, hanno poi acquisito in qualche modo passaporto italiano, quindi di fatto sono 18 su 33, su 45 i giocatori che hanno un vissuto particolare. Ci sono figli di coppie miss, ragazzi di seconda o di terza generazione e così via. Infatti possiamo raggruppare i giocatori in tre categorie. I giocatori che sono arrivati già in età adulta per giocare a rugby, esclusivamente per quello. Un gruppo di giocatori invece che sono nati da genitori emigrati in Italia e che sono arrivati qui a due, sette, nove anni o che sono direttamente nati in Italia. E infine un terzo gruppo di giocatori che sono di discendenza italiana, perché avevano il nonno, la nonna o il papà italiano e sono nati in Canada, Australia o Zimbabwe. Per quanto riguarda lo staff, contrariamente a molte delle squadre di calcio che sono state prese in esame negli altri interventi sia ieri che oggi, lo staff di fatto come vedete presenta anche numerosi tecnici di origine straniera. Inghilterra, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia. Lo staff diciamo di origine italiana di fatto ha anche un'altra caratteristica, che spesso in campo e fuori dal campo parla anche il dialetto veneto, sono quasi tutti veneti ovviamente, e quindi anche questo fa parte dello spazio linguistico della Benetton Rugby. Qui vedete una proiezione appunto della nazionalità e delle lingue giocatori, che però in realtà non rende giustizia di quello che è la ricchezza del plurilinguismo nella Benetton Rugby, perché se noi andiamo a contare sia le L1 sia le L2, come vedete la lista si amplia, va addirittura a prendere in esame lingue come lo zulu o il turco, che sono parlate, premesso da uno stesso giocatore. E a queste lingue naturalmente si aggiungono varietà dialettali, in primis il dialetto veneto, perché è comunemente utilizzato dai tifosi, dai giocatori, dal presidente della Benetton Rugby, quindi in maniera assolutamente trasversale, e anche alcune varietà dialettali meridionali di giocatori che provengono appunto dal sud Italia. Vediamo dunque alcune pillole riassuntive di quelli che sono stati gli esiti delle interviste ai giocatori. Premesso che le interviste che ho condotto con i giocatori di origine anglofona le ho dovute fare tutte in inglese, perché sennò non sarebbe stato possibile svolgere l'intervista, quello che ho rilevato è che di fatto vi sono gradi di plurilinguismo differenti, vi sono giocatori che conoscono diciamo due lingue al di là naturalmente del livello di competenza, ma c'è chi arriva anche a conoscere ben sei lingue, quindi veramente un repertorio plurilingue molto ampio. Quello che è emerso è che per quanto riguarda gli anglofoni che sono un po' il problema comunicativo della società, tutti loro fanno un enorme sforzo per cercare innanzitutto di comprendere ciò che viene detto in italiano durante gli allenamenti, ma nella realtà hanno sempre bisogno di una traduzione, di un mediatore, che di solito è un ruolo che viene svolto dai compagni. Quindi quello che per il rugby, nel gioco del rugby è essenziale, ovvero il sostegno al compagno nella realtà si trasforma sul piano linguistico in questa attività da mediazione all'interno del gruppo dei pari. Va detto che un'altra cosa molto interessante è quando io ho chiesto ma alla fine parlate più in italiano o più in inglese in campo? E la risposta degli anglofoni era più in italiano, mentre la risposta di tutti gli altri era no è l'inglese a dominare. Quindi ci sono percezioni nettamente diverse tra anglofoni e non su quale sia effettivamente la lingua dominante. Il capo allenatore che viene dalla Nuova Zelanda e che frequenta un corso di italiano da 3-4 anni, scusate da 2-3 anni, almeno una volta a settimana, e vorrebbe parlare in italiano, nella realtà in allenamento o nelle partite parla in inglese. Una cosa che fa un po' ridere ma è molto indicativa, all'interno delle riunioni tecniche lui si prepara un discorso in italiano, lo svolge, appena l'ha finito lo traduce in italiano, in inglese. Perché? Perché non lo capiscono né gli inglesi, gli anglofoni, né naturalmente gli italiani perché il livello è molto basso. Va detto anche che ha potuto assistere, lui cerca di parlare in italiano anche con il resto dello staff, ma tutti gli parlano in inglese perché vogliono che il messaggio passi, perché non lo ritengono in grado e soprattutto perché hanno un grande rispetto nei suoi confronti, è uno dei migliori giocatori e allenatori del mondo, e quindi tutti si avvicinano a lui linguisticamente. Per quanto riguarda invece l'intervista al direttore sportivo, quando gli ho chiesto quali fossero le politiche linguistico-educative della società, la prima cosa che mi ha detto è che la Benetton ha una precisa politica linguistico-educativa, che è quella di utilizzare l'italiano in campo e non. Questo però non significa che non si possano usare le altre lingue. Nelle sue parole ci sono frasi che rendono di più in inglese, o frasi a effetto che è giusto che restino nella propria lingua, incluso il dialetto. Tant'è che tutti gli stranieri, anche chi è arrivato da un mese, conosce espressioni come indemofioi, che significa appunto andiamo ragazzi, che si sente molto frequentemente anche durante la partita, anche da chi dialettofono non è. E lui ha definito quella della società, da un punto di vista linguistico, non un problema ma una sfida. Nel senso che ogni anno loro vorrebbero che entro Natale i giocatori parlassero in italiano. Una sfida molto ambiziosa dal punto di vista della didattica dell'italiano. Però lui mi ha detto che questo avviene nel 60% dei casi e per cui si rende necessario ovviamente utilizzare anche l'inglese. Per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento dell'italiano e all'inserimento scolastico e non solo scolastico dei figli, la Benetton ha una scuola di italiano privata di riferimento, consiglia a tutti di frequentarla ma non tutti ovviamente ci vanno. Lo scorso anno in cinque hanno seguito il corso, tre non hanno mai fatto lezione. Va detto che c'è anche qualche giocatore più illuminato se vogliamo. Quindi un giocatore sudafricano che è arrivato quest'estate ha iniziato a studiare autonomamente italiano ancora prima di venire in Italia. E per quanto riguarda poi i figli, il team manager si occupa dell'inserimento, della scelta della scuola e anche dell'inserimento nel rugby perché i bambini e le bambine giocano tutti a rugby ovviamente, degni erediti. Per quanto riguarda gli usi linguistici, e questo forse è uno dei dati più interessanti da un punto di vista anche sociolinguistico, quello che è emerso è che sono le gerarchie interne alla squadra, queste le parole del DS, a determinare che il codice utilizzare. C'è una differenza tra prime e seconde scelte, per cui i giocatori difficilmente vanno linguisticamente verso i meno autorevoli. Da questo punto di vista è esemplare il caso di Brandon Williams che ha giocato per 16 anni tra Padova e Treviso e che non ha mai appreso l'italiano. Perché? Perché era il più forte in assoluto e nessuno osava fargli notare che non conosceva l'italiano. Tanto lui giocava eccessamente ugualmente. E lo stesso avviene appunto nei confronti del capo allenatore. Per quanto riguarda gli usi linguistici che direttamente ho potuto osservare, in allenamento il capo allenatore parla solo inglese. Gli allenatori italiani, tutti con esperienza di gioco anche all'estero, parlano in italiano e ripetono tutto in inglese. In partita invece i giocatori usano l'italiano. Le chiamate, ovvero gli schemi di gioco, da tuscia, da mischia, sono tutte in italiano. Quindi anche chi non parla italiano conosce naturalmente questo tipo di lessico. Però ci sono anche dialetto e delle uno. Generalmente per espressioni non propriamente eleganti o per incitare ovviamente i compagni. Il discorso pre-partita che nel rugby rivesse un ruolo particolarmente rilevante è fatto in italiano e poi viene tradotto. Però all'interno del campo gli anglofoni con scarse competenze usano ovviamente l'inglese. Negli uffici e nello staff invece ho osservato fenomeni di code switching e di code mixing tra italiano e inglese. Quali sono dunque le conclusioni che possiamo trarre da questa sintetica illustrazione della mia ricerca? Allora sicuramente è possibile individuare un forte grado di plurilinguismo soprattutto a livello potenziale del repertorio individuale e collettivo. Uno dei punti che mi sono sembrati emergere come più interessanti è il fatto che i pari vengono riconosciuti come elementi fondamentali per garantire la comprensione. Per cui nella comunicazione che cosa si fa? Si sceglie la lingua in base all'interlocutore. Però questo non avviene come forma di cortesia o come forma di necessità o di opportunità. ma piuttosto in base alle relazioni interne della squadra. Cioè sono le gerarchie e mi è stato detto che in spogliatoio molto apertamente, lo spogliatoio del regime è molto crudo, viene detto a uno forte parla la lingua che vuoi. Tu sei scarso? Impara l'italiano se vuoi parlare. Quindi da questo punto di vista le gerarchie del gruppo incidono sulla scelta di codice. Quindi ritornando diciamo all'ipotesi originale l'inglese sicuramente svolge un ruolo fondamentale per garantire la comunicazione ma l'italiano anche grazie alle scelte della società non viene comunque escluso né l'italiano o il dialetto o le altre lingue del repertorio della squadra. Grazie. Bene, ringrazio Francesca che ci ha dato una prospettiva nuova che finora era mancata in questo convegno. se siete d'accordo come per le sessioni precedenti lasciamo la discussione al termine della sessione e quindi passiamo a Mirella Ricca che nella sua biografia non aveva scritto di essere stata innanzitutto anche lei una nostra studentessa che ha avuto il privilegio di seguire come correlatrice per la sua tesi di laurea che appunto ha trattato di sport. Di recente Mirella ha conseguito ha frequentato e quindi conseguito il relativo titolo di un corso in Digital Marketing and Social Media Communication presso la Lewis Business School e grazie alla sua ricerca ci scrive ha potuto constatare quanto possa essere stimolante combinare la propria passione con il lavoro e quindi cercando anche di proseguire per il futuro in questa strada. Grazie Buon pomeriggio prima di tutto ringrazio Raymond per l'invito e per me proprio da ex studentessa è oltre che un piacere veramente un onore perché io ho sempre seduto tra quelle file là quindi stare qui chiedo perdono per l'emozione. Allora la ricerca che io ho condotto ha avuto come obiettivo quello di delineare le dinamiche linguistiche determinate dalla presenza di atleti stranieri in un ambito sportivo specifico nel mio caso la pallavolo femminile impostata secondo una prospettiva linguistico educativa la mia ricerca si prefigge di osservare il comportamento linguistico comunicativo delle giocatrici straniere durante le loro interazioni con gli allenatori con le giocatrici italiane all'interno e all'esterno del campo di gioco. L'idea principale è quello di dimostrare a terza la mia ricerca di quanto la presenza di atleti stranieri nello sport italiano possa costituire un arricchimento linguistico culturale non solo in ambito sportivo ma per l'intera società italiana. Poi ho analizzato il ruolo e il grado di plurilinguismo nelle squadre sempre riguardante la serie 1 della pallavolo femminile e il ruolo del mediatore linguistico in questo sport. Ad oggi gli studi relativi alle questioni linguistiche nella pallavolo sono quasi inesistenti in Italia. Quasi due decenni fa Todisco pubblicò quello che potrebbe essere uno dei primi studi sistematici sull'immigrazione stanera nel campionato di pallavolo. Dal momento che però il nostro obiettivo è quello di superare la dimensione meramente demografica delle migrazioni sportive nella pallavolo ho preso come punto di riferimento l'analisi dello spazio linguistico italiano il cui ampiamente è stato determinato dall'ingresso delle lingue immigrate come ci illustra Vedovelli nel suo concetto appunto attraverso il concetto di neopruliringuismo. Partendo anche da diversi modelli di rilevazione quali proprio gli ultimi studi recenti studi condotti da Raimon nel contesto calcistico sulla scia proprio di questi studi la mia ricerca intende analizzare le dinamiche migratorie e sociolinguistiche nella pallavolo italiana. Dal punto di vista metodologico partendo sempre dal progetto multisport dell'università per stranieri di Siena ho utilizzato prevalentemente tre strumenti di indagine questionari sociolinguistici semistrutturati interviste e ho avuto anche la possibilità di effettuare delle osservazioni dirette quindi proprio sul campo nel frattempo che le squadre le varie squadre intervistate effettuavano i loro allenamenti l'indagine è stata condotta su sei squadre su un totale di dodici nel massimo campionato di pallavolo femminile nonché i rispettivi allenatori ma ho avuto anche la possibilità di intervistare il responsabile dell'area tecnico-organizzativa della FIPAV il dottore Josepiluca queste sono alcune testimonianze fotografiche avvenute nella stagione 2014-2015 quindi adesso lo scenario è diverso anche i rispettivi allenatori dell'epoca ecco il questionario rivolto alle atlete è composto da un totale di 20 domande suddivise in 5 sezioni dove veniva richiesto appunto i dati anagrafici la nazionalità il luogo di nascita i percorsi linguistico-educativi le lingue apprese durante la carriera sportiva ma anche la percezione del plurilinguismo e la figura del mediatore linguistico-culturale appunto in questo ambito sportivo i risultati raccolti consentono di fotografare i comportamenti linguistici tra le giocatrici gli allenatori all'interno delle società pallovolistiche ovviamente quelle prese in esame allora partendo da questo grafico quindi siamo nella stagione 1991-92 possiamo vedere una panoramica sull'evoluzione dei flussi migratori delle giocatrici straniere nella pallavolo femminile abbiamo 13 nazionalità differenti la cui percentuale maggiore è data proprio dal Brasile la sottolineo perché lo scenario cambia nella stagione 2014-2015 dove non solo non abbiamo più la presenza di giocatrici provenienti dal Brasile abbiamo anche un raddoppio di presenze di diverse nazionalità che però arrivano da una determinata area geografica ossia l'Est Europa ci sono varie motivazioni fra cui abbiamo il fatto che con il passare del tempo le giocatrici provenienti dal Brasile si sono insediate tra le giocatrici più forti al mondo e questo a livello di mercato l'Italia non ha avuto più la possibilità economica di poter effettuare gli acquisti di questo calibro e quindi vediamo la quasi totale assenza di queste giocatrici e altro fattore interessante è la cultura attraverso le mie interviste alcuni allenatori quale l'ex allenatore della Coppa Pedretti di Bergamo Stefano Lavarini attualmente allenatore del Brasile di una squadra del Brasile ha detto che raramente si possono trovare giocatrici asiatiche nel campionato italiano proprio per la diversità di gioco e andando avanti lo scenario della stagione in corso sostanzialmente non cambia abbiamo sempre una percentuale maggiore rivestita da giocatrici provenienti dagli Stati Uniti e dall'est Europa però nonostante questo si può notare come ci sia seppur minima una presenza di giocatrici provenienti dall'Asia quale Giappone e Taiwan e anche da Sud America Brasile e Venezuela da altra analisi condotta riguarda il repertorio linguistico delle giocatrici sia straniere che italiane come è ben evidente il repertorio linguistico delle giocatrici italiane è meno ampio rispetto a quelle straniere dove quest'ultima a seguito delle mie interviste hanno dichiarato di aver appreso queste lingue sia grazie ai loro studi ma anche alla loro carriera sportiva altra domanda riguarda proprio la percezione del prelinguismo da parte sia delle singole giocatrici sia delle società attraverso queste due domande questa è la percezione del prelinguismo secondo le società su un totale di sei squadre intervistate solo due ritengono il prelinguismo secondo la prospettiva babele cioè una barriera un ostacolo mentre le restanti invece come Pentecoste cioè come un dono che contribuisce all'intercomprensione alla risoluzione dei conflitti sia dentro che fuori dal campo mentre la percezione del prelinguismo secondo le giocatrici ha questi risultati su un totale di 69 giocatrici prese in esame diciamo nessuno ha dichiarato di percepire il prelinguismo come un ostacolo come una barriera anzi vorrei leggere alcuni pensieri che sono emersi a seguito delle mie interviste importante per comunicare ed interagire per capire la cultura e le persone migliora le relazioni da questo quindi emerge che il prelinguismo è considerato uno strumento in grado di facilitare la comunicazione migliorare la comprensione intensificare e rafforzare lo sport di squadra le amicizie le relazioni dentro e fuori dal campo nonché un aiuto per agevolare l'integrazione la prestazione e l'andamento di una partita e non in ultimo anche la conoscenza di una cultura diversa dalla propria quindi sostanzialmente in linea generale viene considerato come capacità di comunicare appunto con tutti altra domanda riguarda la figura del mediatore linguistico-culturale in ambito sportivo questa domanda è stata rivolta sia alle singole giocatrici sia ai rispettivi allenatori ecco questo è il risultato secondo la società purtroppo diciamo che tale figura viene vista come una barriera dalle singole società anche per motivazioni strettamente legate alla tempistica dato che si tratta di un gioco non si ho finito di un gioco non a livelli del calcio quindi molto spesso si deve condividere il parazzetto con altre società altri sport devono rientrare in quella tempistica quindi avere tale figura in un allenamento richiede un allungamento dei tempi e anche perché poi non si presta molta attenzione alle competenze linguistiche delle giocatrici cioè non è una lingua sbloccare o bloccare l'esito di una trattativa si pone l'attenzione soprattutto alle competenze tecnico-pallavolistiche anche se proprio come affermato dagli allenatori intervistati le incomprensioni sono all'ordine del giorno sono frequentissimi proprio testuali parole però solo in alcuni casi in casi estremi come ad esempio la presenza di giocatrici provenienti dall'Asia ad esempio si prende in considerazione la figura dell'interprete che però non prende in considerazione gli aspetti culturali mentre in ultimo questa è la situazione per quanto riguarda invece la percezione di tale figura secondo le giocatrici 5 si sono astenute non hanno risposto 12 aventi lo stesso parere appunto degli allenatori le altre invece come una risorsa e anche qui vorrei leggere le motivazioni che emergono è più facile integrarsi in un gruppo nello sport conta anche la persona aiutano gli atleti che vengono dall'estero a capire meglio usi, abitudini e modalità di allenamento quindi dai risultati della mia ricerca emerge in primo luogo questo grado di prulinguismo molto elevato da parte delle giocatrici straniere rispetto a quelle italiane ciò nonostante tutte le giocatrici italiane comprese considerano il prulinguismo come una risorsa culturale e tecnica una posizione quest'ultima che però non viene valorizzata dalle società sportive inoltre è emerso che non è del tutto sconosciuto il concetto di mediazione di mediatore linguistico culturale appunto come vorrei leggere una risposta di un allenatore che dice potrebbe essere importante per l'inserimento delle giocatrici nel gruppo tuttavia l'atteggiamento pentecostale sia ai vertici che fra le giocatrici fanno ben sperare che tale figura in ambito sportivo possa avere qualche possibilità di imporre la propria presenza e le proprie competenze per la soluzione dei conflitti verbali e non e per atteggiamento pentecostale ai vertici io intendo anche la figura del responsabile dell'area tecnico organizzativa e mi piace concludere proprio con le sue parole le nostre società di alto livello sono già attrezzate perché rispetto a qualche anno fa anche i nostri atleti e i nostri tecnici sono usciti fuori dall'Italia e quindi una società di alto livello è già strutturata affinché poi possa cimentarsi nelle varie lingue che possono presentarsi all'interno di una squadra dato che poi io sono aperto al futuro perché no tutto quello che può migliorare il nostro sport ben venga e grazie per l'ascolto grazie Mirella per questa prospettiva che ci ha offerto sul suo sport ecco con tutte poi le informazioni e anche i riferimenti legati al percorso che Mirella stessa ha fatto all'interno di questa università quindi un intervento che sicuramente stimolerà penso diverse diverse domande e passerei adesso a Irene Siragusa di cui non presento ripresento le glorie sportive ieri ne abbiamo parlato tanto e abbiamo visto devo dire complimenti veramente a chi l'ha realizzato un bellissimo video con filmati che testimoniavano la splendida carriera sportiva dei nostri ospiti anche lei voglio presentarla come studentessa ancora attualmente nostra studentessa laureanda nel corso di laurea magistrale in competenze testuali per la promozione turistica si è laureata anche nel percorso triennale presso la nostra università in mediazione linguistica e culturale e è proprio stato l'argomento della sua tesi magistrali a rappresentare l'idea e quindi lo stimolo per partecipare a questo convegno quindi abbiamo un'anticipazione di quello che leggeremo tra qualche mese esatto io intanto ringrazio per la presentazione come è stato ieri per la tavola rotonda e appunto come ha spiegato la professoressa questa è un'anticipazione della mia tesi magistrale che sarà il mese prossimo i servizi linguistici nei campionati internazionali di atletica leggera appunto perché sono un'atleta della nazionale italiana e perché studio lingue quindi abbiamo voluto approfondire e vai così a me la cucina ah scusami capisco la velocità per l'atletica allora abbiamo tempo a disposizione quindi ok cercherò di parlare più piano ecco quindi iniziamo gli obiettivi di il mio lavoro sono stati analizzare il repertorio linguistico degli atleti stranieri illustrare il ruolo il valore delle lingue nelle manifestazioni sportive internazionali di atletica leggera e delineare le barriere linguistiche e i processi di mediazione linguistica durante tali manifestazioni sportive per quanto riguarda il quadro teorico attraverso gli studi del professor Sibiceu fatti per quanto riguarda uno sport di squadra come quello del calcio e attraverso gli studi fatti sul turismo sportivo qui ho messo per esempio di Marco e Tarfanelli sono riuscita a ricavare dati statistici e dati linguistici per analizzare il mio ambito di studio attraverso appunto il repertorio linguistico le scelte linguistiche in campo e fuori dal campo o nel nostro caso in pista o fuori dalla pista e i processi di mediazione in più è importante sottolineare il ruolo del trinomio lingua sport e turismo dato che queste tre parole sono talmente collegate nel senso che il turismo implica comunque una lingua diversa dalla L1 e il turismo in questo momento sta prendendo sempre più piede il turismo sportivo quindi molto importante il mio lavoro si è basato sulla somministrazione di un questionario sociolinguistico semistrutturato sia online che cartaceo e in italiano e in inglese per permettere agli atleti che non sapevano bene l'italiano di capire bene le domande le domande erano 25 di cui 19 chiuse e si raggruppavano in quattro gruppi dati anagrafici repertorio linguistico dinamiche linguistiche nelle manifestazioni sportive apprendimento e uso della lingua nello sport sono stata molto fortunata da questo punto di vista perché tra tutti gli atleti a cui ho somministrato il questionario ben 52 atleti professionisti mi hanno risposto non è cosa da poco tra i quali ho individuato ben 12 nazionalità diverse un range tra i 18 e i 35 anni di età e da sottolineare il fatto che il questionario era totalmente anonimo perciò sappiamo del range di età tramite le mie conoscenze dato che io ho somministrato questo questionario ad atleti che conoscevo o comunque sapevo di che età erano l'unico requisito che ho chiesto a questi atleti per poter partecipare al questionario era essere stati convocati in un nazionale o aver partecipato a delle manifestazioni internazionali proprio per questo parto da questo grafico per illustrarvi quanti atleti hanno partecipato in quante manifestazioni tra cui 8 alle universiadi 13 ai mondiali 13 alle olimpiadi 28 ai mondiali e 50 ai meeting ovviamente non sono manifestazioni riguardanti 2018 2017 ma nell'arco della loro carriera sportiva passando al profilo geografico degli informanti come potete notare 35 degli atleti dichiara di essere di nazionalità italiana oltre alle altre nazionalità elencate sotto c'è da aprire una parentesi in questo caso perché non si intende italiano solo chi è nato in Italia da genitori italiani e quindi a origine italiana si intende italiano anche l'atleta che o viene adottato e quindi acquisisce l'origine italiana o viene comunque da un paese estero con genitori di origine straniera e acquisisce la cittadinanza direttamente in Italia oppure sempre da genitori stranieri però nasce in Italia e quindi acquisisce la cittadinanza alla nascita le lingue censite sono state 17 come potete vedere l'inglese è quella più parlata o comunque più conosciuta da tutti seguiti dall'italiano essendo lingua madre dell'Italia poi il francese tedesco spagnolo eccetera da questo punto di vista abbiamo cercato di fare un'analisi più approfondita che è stata un po' più complicata dato che ho dovuto estrarre dei dati attraverso le preferenze linguistiche espresse dagli atleti abbiamo siamo riusciti attraverso questa analisi a capire quante lingue vengono parlate da quanti atleti quindi in questo caso abbiamo scoperto che nove atleti parlano almeno due lingue 17 atleti almeno tre lingue 18 atleti almeno quattro lingue mentre cinque lingue vengano parlate solo da un atleta 18 persone sembrano poche in realtà sono moltissime perché non è così facile trovare persone che sanno più di una lingua al giorno d'oggi ovviamente sapere una lingua non significa parlarla come la lingua madre ma ho chiesto loro almeno una conoscenza di questa lingua straniera qui parlo dei contesti d'uso delle lingue autodichiarate adesso qui in questa presentazione ho posto solo famiglia e sport mentre nella tesi avremo altri due ambiti di studio che saranno l'università e gli amici ma ovviamente essendo un contesto sportivo ho deciso di mettere solo questi due ambiti come potete notare l'italiano viene parlato nello stesso modo sia nello sport che in famiglia mentre per quanto riguarda l'inglese c'è un forte picco per quanto riguarda lo sport mentre in famiglia viene parlato solo da 12 persone l'unico dato contrastante rispetto alle altre lingue sono le lingue africane in cui 16 persone le parlano in famiglia mentre solo in 5 nello sport perché ovviamente parlando con atleti trasferitesi in Italia raramente durante lo sport parlano il loro dialetto africano o comunque la lingua di origine per quanto riguarda la domanda sui servizi linguistici durante le competizioni il 100% degli atleti intervistati ha risposto che viene usata la lingua inglese questo non implica che tutti sappiano la lingua inglese ma che sanno che viene usata questa lingua potrebbe far pensare a questo punto a un'assenza del plurilinguismo o una scomparsa del plurilinguismo in realtà esperti o comunque figure come gli attaché esperti linguistici che assistano le federazioni fanno sì che il plurilinguismo si mantenga durante le competizioni un altro punto fondamentale di cui parlare è l'assenza della lingua italiana che viene usata solo nei meeting italiani all'estero è molto complicato trovare persone che sappiano l'italiano sui servizi linguistici ho chiesto da qui un grado di soddisfazione degli atleti e fortunatamente 44 di loro hanno risposto che sono soddisfatti dei servizi linguistici solo 4 hanno ritenuto il servizio insoddisfacente comunque la soddisfazione è data dalla presenza di un attaché traduzione di volantini indicazioni stradali traduzione del programma gare e uno speaker multilingue ovviamente non esistono solo aspetti positivi nel plurilinguismo ma esistono anche le cosiddette barriere linguistiche da qui ho tratto un esempio dagli studi del professor Sibiceu che vi vorrei leggere mentre i giocatori sperimentano un arricchimento in contatto con nuove lingue e culture seguendo la loro mobilità internazionale possono incontrare seri problemi a causa di barriere linguistiche e comunicative le quali possono sorgere all'interno dei complessi ecosistemi linguistici delle squadre di calcio con giocatori allenatori di diverse lingue e diversi background culturali quindi imparare la lingua della comunità ospitante è fondamentale per sopravvivere e integrarsi socialmente e professionalmente tuttavia per i giocatori le difficoltà linguistiche vengono percepite diversamente da quelle affrontate da altre persone in contesti diversi questo cosa significa in questo scritto viene affiancata la figura del calciatore per quanto riguarda la figura dell'atleta di atletica leggera le situazioni possono venirsi a creare nello stesso modo perché un atleta durante un'intervista una comprensione del regolamento la traduzione simultanea o l'accompagnamento e la comprensione ipatica e brudocratica potrebbe trovarsi in difficoltà non sapendo la lingua del paese ospitante la manifestazione qui ho posto alcuni esempi di barriere linguistiche che magari leggo un paio velocemente al campionato mondiale in ore con 2014 ho avuto delle difficoltà a comunicare in inglese quindi ho risolto il problema parlando in spagnolo a Pechino 2008 dove bene o male tutti hanno avuto difficoltà a farti capire in inglese ho utilizzato la gestualità ho avuto difficoltà a comprendere la lingua durante le competizioni ma ho risolto con un interprete questo mi fa prendere la palla al balzo per parlare della figura del mediatore linguistico come ha fatto precedentemente la mia collega più del 90% degli atleti ha affermato che la figura di un mediatore linguistico durante le manifestazioni è molto importante anche qui ho riportato alcuni esempi a mio parere sì in quanto purtroppo la gente non capisce l'importanza del conoscere le lingue in particolare quella inglese per poter comunicare con il mondo quindi penso sia utile per aiutare queste persone ed evitare incomprensioni o disagi sì è sempre necessario allo studio dell'inglese lingua internazionale potrebbe non essere ad un livello necessario per comunicazioni più complesse sì perché non tutti hanno una conoscenza delle lingue stranari tale da poter stare tranquilli senza spendere troppe energie nella comprensione oltretutto in un momento di tensione ma è quello del pre-gara-gara potrebbero sfuggire elementi anche importanti concludendo andando verso la conclusione del mio lavoro abbiamo constatato che imparare attraverso lo sport è più facile e divertente dalla possibilità di entrare in contatto con diverse nazionalità e lingue la possibilità di comunicare in un contesto linguistico diverso è un aiuto molto forte negli spostamenti è un arricchimento del linguaggio sportivo un momento di socializzazione un confronto attivo grazie ai frequenti colloqui cosa che non accade soprattutto nella scuola da qui ho concluso il questionario con la domanda dove vorrebbero imparare le lingue gli atleti e 30 di loro ha risposto in lezioni individuali probabilmente dato dal fatto che questi atleti sono culturalmente e formati da un punto di vista linguistico dato che sono atleti maggiorenni comunque hanno già studiato e hanno appreso il loro metodo di studio 29 di loro praticando sport e questo è il dato che più ci interessa 28 di loro in classe seguono ascoltando musica 21 15 con un'applicazione 8 da soli mentre uno solo per i videogiochi concludendo appunto essere un atleta significa essere cittadino del mondo saper vivere fuori da un contesto familiare aiuta a migliorare le proprie capacità linguistiche tutti gli atleti indistintamente dallo sport hanno bisogno di una seconda lingua per sentirsi a loro agio i servizi di mediazione linguistica sono fondamentali è fondamentale sia per il rendimento dell'atleta sia per i servizi turistici durante le gare sportive lo sport è un ottimo metodo di apprendimento per le lingue straniere anche se purtroppo la lingua italiana non è molto competitiva ancora nelle manifestazioni sportive grazie per l'attenzione grazie Irene anche per questa apertura che ci ha offerto su un tema che credo sia destinato a diventare fondamentale per chi in futuro si occuperà di queste tematiche e questa è la questione del turismo sportivo che come Irene ci ha detto è un fenomeno in continua crescita magari ne parliamo un po' nella discussione lascio la parola a Fabio Gersomini purtroppo ancora non ho avuto la sua presentazione ma credo che Fabio sarà perfettamente in grado ed anzi sarà molto volentieri di presentare sia se stesso che la propria attività buonasera a tutti anche io nonostante l'età sono un ex studente da un mese questo ci tengo a dirlo insomma il professore Sibiceo è stato il mio correlatore e da allora non si è più ripreso come potete vedere e come immagino siate già abbastanza stanchi perché le relazioni delle mie colleghe sono state eccezionali partiamo con un video così ci riposiamo un attimo così vedete già un esempio di plurilinguismo dal 1924 sosteniamo gli atleti sordi italiani nel portare avanti la loro passione per lo sport per aiutarli a superare le barriere della comunicazione nell'arco di questi oltre 90 anni abbiamo permesso a migliaia di giovani donne e giovani uomini di realizzare il loro sogno sportivo e di vita dal 2006 citando il presidente del CIP Luca Pancalli facciamo parte della grande famiglia del comitato italiano paralimpico nel triennio 2019-21 la FSI e il suo presidente Guido Zanecchia sono pronti a portare avanti nuove e importantissime sfide in ognuna delle 44 discipline sportive a supporto degli oltre 5.000 atleti che partecipano alle nostre gare dobbiamo preparare le attività delle nazionali nei vari campionati europei e mondiali che si svolgeranno in questi tre anni per farci trovare pronti per l'idea flimpic estive del 2021 ovviamente sono tutti atleti sordi quelli che vedete come avete visto ci sono due interpreti perché uno è in lingua dei segni turca l'altro è in lingua dei segni internazionale e quindi oltre tutte il plurilinguismo che vedete ci sono tre modalità per comunicare con i sordi per questa medaglia mi hanno quasi arrestato alla fine della gara e quindi sapevo della mia collega quindi abbiamo messo anche la palla a volo e quindi e per fare tutto questo abbiamo bisogno del vostro supporto allora vi ho voluto portare questo come esempio concreto di plurilinguismo questo non è uno spot fatto per andare in giro per il mondo è uno spot fatto per l'Italia e come vedete se si parla di sordi abbiamo avuto la necessità di tre modelli comunicativi il primo è come avete potuto vedere la lingua dei segni il secondo è i sottotitoli perché non tutti i sordi conoscono la lingua dei segni il terzo siamo noi udenti e quindi abbiamo dovuto usare tre modalità che di fatto sono assolutamente all'interno del plurilinguismo anche se non sono parallele a noi io cercherò oggi di dimostrarvi come di fatto soprattutto nello sport e nello sport di alto livello la lingua dei segni è già usata inconsapevolmente ma è già usata e come ed è questa la mia provocazione la lingua dei segni potrebbe diventare all'interno dello sport soprattutto lo sport di alto livello un mezzo molto più efficace di altre lingue che vengono usate poi alla fine mi direte voi se ci sarò riuscito brevissimamente la lingua dei segni è una lingua vera e propria e ovviamente richiamo quello che ho detto nel senso che il plurilinguismo per i sordi è scontato perché convivono automaticamente al di là delle altre lingue sia la lingua dei segni che la lingua vocale chiaramente è un sistema di comunicazione visivo e gestuale e il messaggio della lingua dei segni viene espresso ovviamente attraverso le mani ma non solo anche il viso la postura del corpo eccetera e viene percepito con la vista ho messo l'alfabeto perché alcuni di voi conoscono un alfabeto che non esiste più da 50-60 anni l'alfabeto quello vero è questo scusate se ve l'ho messo ma questa è una cosa che doveva mio padre che è sordo che l'alfabeto vero è questo la lingua dei segni è una lingua dei segni se volete poi lo approfondirete ma noi dobbiamo la dimostrazione scientifica William Stocky che già nel 1960 cioè 58 anni fa ha dimostrato che la lingua dei segni e le lingue dei segni nel caso particolare l'americano è una lingua dei segni in Italia ancora non lo abbiamo riconosciuta come lingua ufficiale sono solo 58 anni che è scientificamente provato nella tesi non me l'hanno fatto mettere perché avevano detto che ero troppo polemico ma qui lo posso dire ormai ho finito allora adesso vi do una breve dimostrazione di come la lingua dei segni è già all'interno dello sport uno degli attori principali l'arbitro usa la lingua dei segni queste sono delle immagini prese dal football americano quest'altro disegno è un arbitro ora perché questo è un segno perché sfido io a capire dal gesto che questa sia una punizione di seconda la punizione di seconda ha un aspetto specifico cioè è la punizione che nel calcio il giocatore deve toccare la palla prima di poter tirare in porta il braccio alzato non fai vincere in alcun modo non c'è un 2 che ci può far capire che la punizione va toccata da 2 persone eccetera quindi è un segno assolutamente arbitrario deciso per cui chiunque gioca a calcio sa che questo significa punizione di seconda questo significa che gli arbitri anche se non consapevolmente chi interpreta le decisioni arbitrali anche se non consapevolmente utilizza in parte la lingua dei segni i tecnici e gli allenatori anche usano la lingua dei segni non ci se ne rende conto ma la usano poi vi farò vedere col mio collega alcuni segnali ma ho preso un esempio qua lui sta indicando la posizione che vuole immaginate di comunicare in un campo da calcio a distanza di 40 distanza di 40 50 metri si aiutano tutti gli allenatori con le mani spesso e volentieri danno informazioni specifiche che non sono gesti cioè cose che si possono comprendere perché come posso dire sono trasparenti o collegate a qualcosa di specifico gli atleti stessi vedete questo giocatore io vengo dal basket quindi non potevo esimermi dal mettere chiama L L è un gioco perché lo chiama con la lingua dei segni perché in un palazzetto con 10 12 13 mila persone che urlano eccetera sentire vocalmente e acusticamente la chiamata che sia in inglese che sia in francese che sia in italiano è complicato questo è un segno è un po' più chiaro da identificare perché è il simbolo della L questo schema si chiama L ma il fatto che sia condiviso per tutti i giocatori a quel segno fare una serie specifica di movimenti non è più un gesto diventa un segno che veicola un significato un significato preciso condiviso da quella squadra allora nello sport lo sviluppo e la consapevolezza dell'uso dei segni sicuramente oltre a risolvere parte dei problemi che riguardano i nostri diatleti siamo convinti che possa aiutare e facilitare contestualmente anche la coesione della squadra perché è un segno plurilinguistico accessibile a tutti lo stabilire che quel segno ha quel significato è come posso dire una sovrastruttura che amplia assolutamente il concetto di plurilinguismo anche dal punto di vista visivo ora se negli altri aspetti ci sono pochissime ricerche il professore lo sa nell'ambito della lingua dei segni e dello sport le ricerche sono praticamente assenti ma di fatto i sordi e tutti gli atleti che sono coinvolti in sistemi plurilinguistici potrebbero attraverso la lingua dei segni sicuramente trarre dei vantaggi innanzitutto perché in una situazione disturbata dal punto di vista acustico la lingua dei segni passa su uno spazio visivo più ampio può essere visto e letto e interpretato meglio anche a ragguardevole distanza non solo ci sono studi dove l'esercizio alla comunicazione non verbale consente di percepire meglio gli stati d'animo gli incitamenti e quindi i messaggi che vengono veicolati dagli allenatori dai dirigenti eccetera potrebbero essere interpretati in maniera molto più efficace ora prima di darvi una piccola dimostrazione pratica perché ci tenevo a lasciarvi con un seme perché poi spero che qualcuno di voi prosegua quelle ricerche che io non sono stato in grado di fare questa persona credo che la conosciate tutti è Nelson Mandela e lui dichiarato che lo sport ha il potere di cambiare il mondo quello che non si riesce a fare nella politica nel sociale nello sport si fa perché unisce le persone e soprattutto riesce a parlare in una maniera in cui nessuno di noi riesce a parlare ai giovani e lo sport crea speranza anche in quei ragazzi sordi in quei ragazzi che vengono dall'Africa in tutti quei ragazzi che hanno situazioni problematiche di poter far parte di un team per il raggiungimento di un risultato ed è oltre allo strumento migliore per abbattere le barriere laziali è anche l'unico capace di distruggere tutte le discriminazioni perché se l'atleta è forte non importa che sia sordo che sia udente che sia bianco che sia nero eccetera verrà apprezzato e verrà stimato per quello che è adesso vi faccio vedere una dimostrazione pratica se il mio collega viene di quello che intendevo significarvi con una comunicazione efficace allora immaginate che siamo in uno stadio e scusa l'ultimo laggiù come ti chiami? Adriano immaginiamo che Adriano sia il nostro difensore ok? e io sono l'allenatore e io da questa distanza a voce nel frattempo ci sono circa 40.000 personaggi di più 50 tanto non costa niente 60.000 facciamo allora Adriano giusto? adesso io non userò la voce userò solo il labiale che ti ho detto Adriano non lo sai marca qualcosa adesso immaginiamo che Adriano conosca la lingua dei segni Carlo se glielo fai vedere ci cacciano via Carlo che cosa hai visto? e Adriano che cosa hai visto? in realtà se lui avesse conosciuto la lingua dei segni mai fatto fare una figuraccia ti ho pure pagato prima questo è un modo da dietro di passargli davanti nella lingua dei segni marca da davanti come vedete a quella distanza la comunicazione acustica non si è vista un altro esempio vi faccio Adriano che ti ho detto? rispondi bene stavolta ok non lo sateri Adriano bravo che stai cominciando a guadagnare i soldi che ti ho detto vai allora Adriano ha visto due mani che vanno in avanti e il segno di 10 gli abbiamo detto porta la linea più avanti di 10 metri ora che ti ho spiegato i movimenti tu i segni li avevi visti devi dire di sì ok perfetto quante volte vediamo gli allenatori di atletica eccetera far vedere il gesto eccetera ora la nostra sfida oltre che nella dare visibilità al nostro movimento sportivo è quello di farvi capire che soprattutto nello sport la lingua dei segni è già presente ma non è come posso dire consapevole è una presenza inconsapevole e come se ci fossero studi ricerche eccetera oltre a dare una possibilità maggiore di integrazione ai nostri atleti che ne hanno bisogno e di inclusione reale è un vantaggio concreto anche per gli utenti io sono un allenatore di pallacanestro a tempo perso chiaramente non mi pagano per quello non so tanto bravo eppure vi assicuro che dopo due anni che allenavo la stessa squadra è che io in maniera istintiva usavo la lingua dei segni perché contestualmente allenavo anche la nazionale femminile di basket un paio di atleti a distanza su una situazione di contropiede hanno usato un segno e si sono capiti a parte ovviamente l'ovvia commozione da parte mia ma quello che vi voglio dire è qui ci sono tanti studenti immagini e tante persone molto esperte sul campo ampliate le ricerche sul plurilinguismo e possibilmente tenete conto che c'è un altro mondo parallelo che è quello della lingua dei segni non dei gesti che se studiata può dare grandissimi vantaggi anche e soprattutto nel mondo sportivo quindi io e Nelson Mandela vi salutiamo grazie grazie Fabio e grazie anche alla federazione sport sordi Italia che credo sia fondamentale poi nell'azione non solo di sensibilizzazione ma anche in azioni fattive rivolte agli sportivi ma come faceva ben vedere Fabio anche rivolte a tutto il mondo dello sport è stata una sessione molto bella devo dire quindi apro la discussione e aspettando le vostre domande le vostre osservazioni quindi Eva è una domanda di ignorante a Fabio Gelsomini ha detto che c'era una lingua dei segni internazionale perché a questo che seppia io ci sono delle lingue tante come lingue naturali e anche dialetti ma esiste una lingua dei segni che anche tutti i sordi capiscono dove che sia come migliore dell'inglese come lingua franca allora c'è un equivoco fatto da noi udenti la domanda è molto pertinente per gli udenti i sordi usano le mani è come dire che perché tutti i cinesi hanno gli occhi con una certa conformazione siano tutti uguali esistono dialetti assolutamente ogni paese ha la propria lingua la differenza è che l'inglese dei sordi non è l'inglese ma è questa lingua internazionale che è un tipo di comunicazione che viene usata nei contesti ufficiali internazionali che ha una base proveniente dall'ASL l'American Sign Language ma è solo una base raccoglie ovviamente elementi di varie lingue ma in alcune strutture è assolutamente autonoma quindi la lingua internazionale usata dai sordi non è una lingua dominante che ha preso il sopravvento sulle altre lingue ma è una lingua che ha fatto proprie alcune strutture e altre ne ha create quindi la lingua internazionale è una lingua vera e propria che non può essere associata ad alcun paese che parla la propria lingua quindi sì ci sono innumerevoli lingue dei segni ci sono lingue dei segni che sono poi a loro volta suddivise in varie versioni dialettali e poi c'è questa internazionale che è la lingua che in questo momento viene usata nei contesti ufficiali e che praticamente riunisce quello che è in ambito soprattutto sportivo e sociale di alto livello parlo di convegni mondiali eccetera la comunicazione dei sordi e al quale la maggior parte dei sordi sono in grado di comunicare è chiaro che se un sordo che non conosce questa lingua assiste a una comunicazione in lingua internazionale potrà capire qualcosa ma non è in grado di comprendere l'intero messaggio ma come tutte le lingue è una lingua che si impara e per gli addetti ai lavori è diciamo abbastanza agevole con un po' di impegno conoscerla grazie Diego Lombarni la mia domanda è per la dottressa Ricca domanda o considerazione non mi mettere in difficoltà no no correggimi se sbaglio anzi il ruolo della lingua italiana nella pallavollo anche internazionale se vado un po' a memoria anni fa la nazionale femminile di pallavollo russa era allenata da un italiano e si notava dai time out che l'italiano era la lingua principale più o meno di quella nazionale perché molte pallavoliste giocavano avevano giocato nel campionato italiano credo anche a livello maschile sia successo con altre nazionali non è l'unico caso ha tuttora o ha avuto diciamo il ruolo la lingua italiana è il ruolo quello che ha la lingua inglese nel basket un po' come lingua franca internazionale o no sì e no perché sono comunque coadiuati da interpreti quindi come si si è notato anche nel ne parlavamo oggi pomeriggio qualcuno non ricordo l'ultimo mondiale quindi è successo che un allenatore russo era aiutato da un interprete giapponese quindi la rapidità è quello che conta però c'è un aiuto perché lì dove si deve dare importanza alla prestazione e all'andamento di una partita le incomprensioni che sono all'ordine del giorno non ci si può permettere di diciamo stabilire quale lingua sia predominante ma l'efficacia della comunicazione quindi spero di essere stata esaustiva altre domande? faccio io una domanda forse due allora la prima a Irene e insomma mi sembra che questa ricerca almeno nei risultati cioè presenti delle novità rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad oggi soprattutto su quella che è diciamo la consapevolezza dell'importanza delle lingue di un repertorio linguistico vasto che ha potuto raccogliere tra gli atleti che ha intervistato ed anche un dato che mi ha colpito positivamente cioè l'idea che la possibilità di avere a disposizione un mediatore linguistico culturale possa costituire un valore aggiunto quindi una posizione abbastanza diversa da quella degli sport di squadra allora la domanda è che è forse anche una domanda per Francesca ricollegandomi a quello che lei diceva cioè il ruolo diciamo sociale che l'atleta ha nella squadra poi decide le scelte linguistiche la squadra è un ambiente un contesto sociale che protegge e fortemente anche gerarchizzato e quindi diciamo in questa protezione in questa gerarchizzazione non si sente il bisogno di più lingue o questa consapevolezza e questo diciamo dato che secondo me è molto positivo il dato che lei ha raccolto forse è legato ad altri fattori sicuramente mi ha aiutato molto la mia esperienza personale perché conoscere un contesto sportivo individuale del genere se uno non lo vive appieno non riesce a rispecchiare quello che sono quella che è la realtà linguistica per quanto riguarda il mediatore come un po' ho detto anche ieri durante la tavola rotonda che è stata fatta la differenza sta proprio nello sport lo sport collettivo di squadra come ha già anticipato lei è uno sport che protegge l'atleta perché attraverso la squadra puoi trovare il giocatore che parla la tua stessa lingua l'allenatore della stessa nazionalità un interprete che ti può aiutare nello sport individuale soprattutto quando si va a gareggiare all'estero si è spesso da soli quindi se l'atleta stesso non conosce un L2 che può essere l'inglese può essere lo spagnolo francese le lingue più usate si potrebbe trovare in difficoltà e spesso anche a me è capitato che di andare a fare delle gare in Germania io non sapendo il tedesco mi sono trovata in difficoltà perché gareggiando in dei paesi più piccolini non parlavano l'inglese tutti quindi quello sicuramente la presenza di una L2 la conoscenza della parte dell'atleta di un'altra lingua secondo me è fondamentale per quanto riguarda il mediatore come ho letto anche negli esempi la maggior parte di loro lo trova molto utile anche se come già detto ieri il mediatore è utile al primo impatto con il paese straniero che ti deve aiutare a capire dove sei come devi comportarti quali scelte linguistiche devi attuare poi in seguito se l'atleta rimarrà nel paese diverso dall'Italia dovrà essere autonomo nelle scelte linguistiche quindi apprendere e sperimentare da solo questo non può avvenire sempre dato che quando io vado a fare una gara in Giappone o in Cina o in qualsiasi parte del mondo non è che posso imparare il cinese in una settimana quindi in quella situazione è giusto che ci sia un mediatore linguistico come viene chiamato nell'atletica un attaché che aiuta la federazione a ritrovarsi in un contesto linguistico molto diverso non so se Francesca vuole aggiungere qualcosa visto che è anche un tema che è stato toccato dal suo intervento soprattutto in relazione alle scelte linguistiche che poi il giocatore fa da un lato stavo pensando al caso del rugby dove all'interno delle manifestazioni internazionali c'è una sorta di liaison officer che viene assegnato a ciascuna squadra che fa un po' da tramite ovviamente non soltanto nelle questioni organizzative ma anche da un punto di vista linguistico questo per le competizioni tipo mondiali sei nazioni eccetera ovviamente la squadra è diversa nel senso la figura del mediatore forse viene sentita come meno necessaria nel caso in particolare che io ho analizzato dove tutti i giocatori o quasi tutti avevano un'esperienza all'estero di gioco anche gli italiani per loro tutto sommato non c'era una necessità erano abbastanza autonomi nel fungere reciprocamente da mediatori verso l'inglese o verso l'italiano anche se alcuni mi hanno detto che avrebbero voluto approfondire magari la propria conoscenza dell'inglese proprio per essere ancora più in linea insomma al passo insomma con poi le scelte di codice della squadra e stavo pensando a un caso in particolare se ne parlava stamattina con qualcuno colui che domani scenderà in campo per la prima volta in un test match ufficiale come estremo per non fare nomi J.D. Neward è qui da quattro anni e non parla nulla di italiano ha un bimbo che frequenta un asilo a Treviso sua moglie vive in Italia di origine brasiliana parla molto bene l'italiano e quando io gli ho chiesto J.D. ma perché non vuoi parlare in italiano perché in nazionale nonostante l'allenatore irlandese viene richiesto a tutti i giocatori non tanto di cantare l'inno perché per il rugby è abbastanza normale cantarlo quanto di parlare di comunicare in italiano e lui mi ha risposto perché sono pigro tanto tutti mi parlano in inglese e quindi insomma questo la dice lunga e forse però si richiama anche a tanti casi di cui si è parlato oggi rispetto al calcio di giocatori che non magari poco abituati poco avezzi anche al banco di scuola o all'immagine che hanno della scuola tra l'altro sono probabilmente poco motivati ad apprendere attenzione che Cristiano Ronaldo domenica dopo il match contro il Milan è stato intervistato prima di uscire dal campo e la prima cosa che ha detto tra sei mesi potrete farmi le interviste in italiano quindi ci sono altre domande possiamo possiamo concederci l'ultima pausa caffè per poi aprire l'ultima sessione di questo convegno grazie